Mister, oggi è arrivata una sconfitta ma forse ancora più pesante è l'esclusione del campionato. Come giudica la partita e se crede che avreste meritato di più in questo campionato? Secondo me è difficile dirlo perché abbiamo praticamente da febbraio siamo un'altra squadra e adesso è di scotta di più uscire perché cominciava ad essere divertente in questo periodo. Oggi abbiamo giocato a viso aperto un buon primo tempo creando diverse occasioni per gol e non le abbiamo finalizzate. Ovviamente poi il calcio è così, si viene punito di solito quando è il momento migliore, poi dopo ci può stare. Che voto potrebbe dare alla stagione della sua squadra e crede che ci sia stato qualcosa che poteva darvi di più o di meno? Allora diciamo che è stata una bella annata intensa, l'unico problema che abbiamo avuto è la continuità, non abbiamo mai tenuto mai 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 tenuto la continuità. Siamo stati sempre molto allenanti e quindi penso che probabilmente potevamo dare meglio solo sul lato della continuità, del risultato, delle prestazioni. Ci siamo accesi e spenti troppe volte. Ministro, la ringraziamo e facciamo un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione e speriamo di rivederla con altri campi.